L'Inps ha pubblicato dati riferiti ai primi otto mesi dell'anno che attestano come le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016 siano in netto calo rispetto al 2015. In sostanza si è passati da 1.200.000 a 800.000. Secondo la CGL questo è il fallimento del Jobs Act che ha perso la sua spinta una volta diminuiti gli incentivi. A livello regionale per il sindacato cresce la precarietà, infatti sempre da dati Inps in Molise si è passati dai 6.277 assunti a tempo indeterminato dell'anno scorso ai 3.918 di quest'anno, variazione negativa del 37,6%. Nel contempo i contratti a termine sono passati dai 7.570 del 2015 ai 7.949 del 2016. Aumentano anche gli stagionali e gli apprendisti. C'è evidenzia la CGL un calo delle assunzioni. Si registra un meno 12,5% con il Molise quart'ultimo nella graduatoria nazionale. Un quadro completato da un aumento significativo del numero dei voucher venduti in un anno. Un mercato del lavoro quindi è l'analisi del sindacato caratterizzato da forte precarietà e da una preoccupante diminuzione delle assunzioni che conferma che abbassare le tutele e i diritti non crea occupazione e sviluppo. Secondo il sindacato è necessario investire risorse pubbliche per favorire investimenti privati. Un dato è certo, la crisi morde ancora. Anche i dati della Caritas sulla povertà aumentata a livello esponenziale lo dimostrano. E quanti il lavoro lo hanno perso, non lo trovano i giovani, quelli costretti a emigrare, sono stanchi di proclami, specie quelli della politica. E il Molise delle tante vertenze, delle proteste continue di lavoratori e sindacati davanti ai palazzi della politica, da più parti vista come immobile senza un piano di sviluppo organico, è una fotografia eloquente.